buonasera a tutti ragazzi rieccoci brevissimo video sono contento per luigi allora lui ha eseguito il calcolo di ambata contata facendosi una soprevisione poi ha aggiunto due numeri per conto suo ed è andato a vincere l'ammo in terzina pensate che ha sfiorato il terno secco perché su venezia è uscito 2 48 89 allora vediamo cosa ha fatto luigi luigi sono veramente contento bravo hai visto che hai vinto che tu col sistema ambata contata certo che vi dico sempre quando vi fate le previsioni da voi poi vi aggiungete i vostri abbinamenti fate come volete e andate a vincere ma io sono felicissimo sono veramente felice bravo bravo luigi ha visto che anche tu hai vinto poi alla fine caro marcus vi leggo quanto scrive caro marcus grazie con la tua ambata contata ho vinto il 48 su venezia peccato che non si è visto 90 perché potevo fare veramente il botto e infatti se noi andiamo a vedere dove ha preso la spunta luigi era l'11 di junior quindi non è anche tanto tanto lontano allora 48 esce in prima posizione a bari allora si parte dalla prima posizione 1 2 3 4 5 quindi 5 10 15 20 25 30 35 40 45 46 47 48 adesso o il 48 o l'84 praticamente andava a finire o a venezia o a bari guardate cosa è successo è uno primo colpo esce l'84 a venezia 2 ieri sera esce il 48 a venezia non in posizione ma esce comunque lambata per quello vi dico anche se esce lambata esce comunque lambata anche se non è in posizione luce ha aggiunto il 2 luce aveva aggiunto il 90 89 quindi ha vinto lambo in terzina e ha sfiorato il terno quando vi dico che le previsioni dovete far ve le potete fare da voi ci sarà un motivo è lui ci sono contento per te che hai vinto finalmente anche tu con lambata contata e finalmente hai assaporato la vincita hai visto che funziona bene se avete altri scontrini che vi fate voi che utilizzate i miei metodi mandate pure la mail faremo questi tipi di video e non mi stuferò mai di dirvelo perché dimostrate di aver capito il sistema è dimostrate che è realmente vero quello che dico che si può vincere veramente facendosi le previsioni da se stessi luigi sono veramente contento per quello che hai scritto e io ti ringrazio tanto ci saranno altre vincite non solo da tema da tanti altri ragazzi buona serata a tutti di nuovo marcus marcus